buongiorno da stefania bonomi e benvenuti alla rassegna stampa di oggi sabato 10 giugno andiamo subito a vedere chi è il santo di oggi oggi è san landerico vescovo di parigi ventottesimo vescovo di parigi landerico si prodiga per assistere i poveri nel territorio della neustria arrivando addirittura a vendere le suppelletti lisacre per sfamarli costruisce inoltre un ospedale accanto alla cattedrale dedito alla cura degli indigenti san landerico morirà intorno al 657 e siamo alle previsioni del tempo oggi sabato 10 non è una bella giornata e la situazione del tempo è instabile sulle marche con annuvolamenti a tratti compatti e rovesci o temporali diffusi le temperature sono in diminuzione abbiamo oggi una giornata piuttosto piovosa domenica lunedì e martedì sono delle belle giornate purtroppo mercoledì il tempo comincia di nuovo a annuvolarsi e giovedì abbiamo delle gran piogge oggi il sole sorge alle 5 25 e tramonta alle 20 e 47 e siamo alla nostra rassegna stampa abbiamo i nostri quotidiani corriere adriatico e resto del carlino vediamo cosa ci dice il corriere adriatico rebus sosta tutti in bus l'appello del comune ai bagnanti per andare al mare prendete le navette il servizio è gratuito dopo le linee viale trieste sottomonte da oggi parte la notturna e si parcheggia al santa marta poi abbiamo un servizio su fossombrone trovato senza vita scusate vicino alla casa della sua infanzia due notizie su fano in cento abbracciati ai platani per dire no al loro abbattimento e sempre preso con l'ascis ringrazia la polizia così forse smetto dopodiché sul finire scazzottata la partita calciatore a processo pugni in faccia agli avversari a fine incontro le due squadre militano in terza categoria entriamo più nel dettaglio quindi a vedere le notizie rebus sosta tutti in bus ritroviamo il servizio a pagina 6 rebus sosta al mare l'appello del comune prendete le navette navette estive verso il mare loro utilizzo può essere una valida alternativa a sosta selvaggia e alla carenza dei parcheggi lamenta soprattutto nella zona di levante il piano estivo della viabilità è già scattato dal ponte del 2 giugno a sottomonte la possibilità di parcheggiare sul lato ardizio con il limite dei 30 chilometri orari così come in viale trieste sono state introdotte le isole pedonali e qua vediamo che al mare il navette ha già attive le linee viale trieste sottomonte la notturna parte da oggi stesso baia flaminia dal 17 di giugno il servizio di comune e adrius è gratuito torniamo sempre alla prima pagina andiamo a vedere invece andiamo a Fano andiamo subito alle pagine di Fano e vediamo Fano ecco qua in rete i musei e i siti archeologici che si affacciano sulla via Flaminia un progetto di grande respiro turistico della nuova direttrice dell'ente che riunisce i beni di Sette Comuni è Vanessa Lani la nuova direttrice della rete musicale della via Flaminia che mette in rete Sette Comuni Fano, Candiano, Cagli, Colli, Almetauro, Fossembrone e Acqualagna si tratta di un nuovo incarico attribuito per il concorso della regione Marche con il proposito di promuovere una sinergia tra più enti locali coordinandone i provvedimenti e valorizzandone le attrattive sia musicali che archeologiche ed ecco la notizia trovato con l'Ascish grazie, magari adesso smetto ha preferito fare il furbo aveva messo sotto il sedile dell'autobus per il trasporto degli studenti dell'Ascish chi lo aveva se ne è disfatto quando ha visto che sul mezzo stava salendo un poliziotto con un cane antidroga e sotto il sedile l'involuco è stato ritrovato dagli agenti che stavano effettuando il controllo congiunto personale del commissariato insieme con la polizia locale per contrastare proprio l'uso delle sostanze stupeficienti fra i giovanissimi hanno trovato il diciottenni quando è stato trovato ha detto grazie al poliziotto magari adesso smetto sarebbe anche una buona cosa ed ecco che torniamo invece al disguido insomma alla contestazione che c'è stata per i famosi platani abbraccia i platani per dire no al sottopasso che li sacrificherà raduno di protesta nello slargo tra via Filzi e viale Cairoli almeno 100 residenti contro l'abbattimento si sono messi ad abbracciare questi platani hanno abbracciato i maestosi platali lungo viale Cairoli per dire in modo simbolico che non dovevano essere tagliati e che si devono trovare soluzioni in grado di contemplare sia una migliore accessibilità del luogo sia la tutela degli alberi e del verde urbano sono circa 100 persone tra residenti ambientalisti hanno partecipato al presidio di protesta allo slargo tra viale Filzi e viale Cairoli a Lido di Fano nel tardo pomeriggio di ieri rilanciando la richiesta di bloccare il progetto del nuovo sottopasso predisposto da rete ferroviaria italiana l'innovazione, affido e vicinanza solidale aiutare ora è più semplice avviato un progetto per snellire le procedure di sostegno ai nuclei più fragili anche andare a prendere una figlia a scuola può diventare una difficoltà se per esempio si tratta di una famiglia monogenitoriale che non abbia amici o parenti ai quali chiedere una mano è in questo contesto che interviene il progetto di vicinanza solidale presentato ieri in municipio dal presidente della TS6 Dimitri Tinti dalla dirigente Roberta Galdenzi da Graziella Giorgetti del distretto sanitario e da Adriana Antonioli responsabile dell'area minori per l'ambito sociale il risultato da conseguire è fare in modo che le famiglie fragili possano contare su appoggi concreti implementando inoltre la rete di adulti ai quali possono rivolgersi i minori guardiamo le pagine della Val Metauro Task Force lo cerca per una notte morto vicino alla casa di infanzia shock a fossombrone per un 65enne inutile l'allarme lanciato dalla moglie il suo corpo è stato ritrovato senza vita ieri mattina alle 9.30 nella zona della Colle dei Cappuccini nei pressi della casa dove aveva vissuto la sua infanzia aveva preparato tutto nel dettaglio fino a decidere quale albero avrebbe raccolto la sua vita prosciuga il conto e scompare a processo un 58enne sottrae all'ex compagna circa 4.000 euro facendo piccoli ma continui prelievi sottraeva il banco matta dalla borsa della convivente e alleggeriva così il suo conto corrente poi esaurita la fonte da cui approvvigionarsi aveva lasciato la donna e l'abitazione dandosi alla macchia per diversi mesi è ripreso ieri il processo nei confronti di questo 58enne di Treviso accusato di furto in debito e utilizzo di carta bancomat passiamo alla pagina di Val Cesano dal borgo al lungomare un'estate di special guest ecco le iniziative per Mondolfo e Marotta tra i VIP avremo anche Bartoletti, Crepet e Paella divertimento assicurato dal borgo al mare dalla rassegna letteraria al festival della Fisarmonica sarà un'estate ricchissima di eventi quella in programma a Mondolfo e Marotta tanti gli ospiti prestigiosi facciamo un diciamo passiamo quindi a vedere un attimo invece cosa ci dice la rassegna stampa del resto del Carlino anche qua vediamo subito controllo al pincio di vigile e commissariato la fermata dello spaccio la polizia sui bus degli studenti sequestrate dose di hashish poi sempre in prima pagina gli andraghetisti sono tra noi l'inquietante quadro fatto a Fano dai magistrati antimafia creano società fittizie per riciclare i capitali sempre in prima pagina nascerà il ristorante tutto gestito da ragazzi disabili prelievi a raffica col Bancomat l'abbiamo appena visto sul Corriere Adriatico processo finto innamorato entriamo invece nel vivo delle pagine del resto del Carlino andiamo subito a pagina 3 andiamo subito a pagina 3 dove troviamo anche qui i tentacoli della piova allarme cosche per Pesaro e il territorio marche 100 condannati per mafia e molti riciclano denaro sporco Fano l'analisi inquietante fatta dai magistrati a un convegno sul crimine organizzato nel centro Italia il sostituto Daniele Paci 40 c'erano già gli altri 60 non credo siano venuti in vacanza approfondiamo un attimo questo articolo che è molto interessante sono un centinaio sparsi per le marche e hanno una cosa in comune una condanna per associazione di stampo mafioso la prova che gli andraghetisti sono tra noi ma se di questi 40 vivono già nella nostra regione gli altri 60 invece no perché sono qui di certo non per fare vacanza una delle risposte riciclaggio di denaro sporco ha conferma che la nostra regione è una lavanderia per capitali illeciti creano società fittizie fanno fatture per operazioni inesistenti con cui lavano i soldi sporchi basta guardare beni confiscati alla criminalità organizzata nelle marche sono tantissimi non ci accorgiamo dei reati spie di tutte le società create con cui fanno fatture per operazioni inesistenti torniamo sempre alla prima pagina e andiamo a vedere l'avventura dei 60 magnifici disabili all'alberghiero il loro ristorante cucina sala palco faranno tutto loro iniziativa molto interessante dietro la scuola si sta allestendo il locale all'aperto che sarà aperto da luglio fino al 25 agosto il modello è quello di piazza out tra i ragazzi anche Gabriel che col cappello da chef andò dal papa dal primo luglio al 25 agosto a Pesaro debutterà una nuova stimolante avventura basterà trovarsi oggi alle 10 al centro arti visivi peschiera dove in occasione degli stati generali dell'accessibilità Roberto Franca preside dell'alberghiero di Santa Maria Andrea Boccanera presidente dell'associazione Gulliver racconteranno cosa bolle in pentola in pentola bolle che dietro l'istituto alberghiero si sta allestendo una sala e ristorante all'aperto con tanto di palco per cabaret e musica per quasi due mesi dalle ore 17 in poi quell'area aprirà al pubblico accogliendo pesaresi e turisti a tavola e non solo a tavola ad animare il convivio ci saranno anche un mercatino vintage e stand con prelibatezze gastronomiche take away i magnifici 60 sono giovani appena usciti dal percorso scolastico incardinato in uno degli otti istituti superiori di Pesaro qua ritorniamo alla notizia che abbiamo già visto nel Corriere Adriatico l'articolo è ampliato finto innamorato e ladro le sfilava al banco ma te prelevava 4.000 euro 46 anni di Pesaro pensava fosse amore lui invece di 59 anni veneto prosciugava a raffico il suo conto sfruttando rapporto sentimentale esistente con la ragazza e andiamo invece a vedere cosa il resto del Carlino ci annuncia sulle pagine della nostra città Fano il grido di Viale Cairoli questa cosa questa polemica è diventata molto importante ne sta parlando ne stanno parlando entrambi i giornali gli hanno dato anche abbastanza spazio come vedete si abbracciano agli alberi c'erano un centinaio di persone a protestare contro i lavori tra loro anche i residenti stanno distruggendo questo posto sempre sulle pagine di Fano Vanessa Lani nuova direttrice della rete museale di via Flaminia e Vanessa Lani la nuova direttrice della rete museale della via Flaminia che unisce sette comuni e anche questo ne abbiamo già parlato con l'articolo che abbiamo visto nel Corriere Adriatico droga fiumi tra gli studenti sequestrati dosi in autobus polizie e vigili hanno passato al setaccio gli alunni delle superiori fanesi controlli anche al pincio nel mirino hashish marijuana crack e anche psicofarmaci da Fossombrone alla città della fortuna transita la roba purtroppo strani movimenti anche in centro sempre restiamo sempre a fano nuova federiciana 8 milioni difficili da trovare secondo la nuova delibera di variazione di bilancia almeno 4 milioni di euro dovranno essere reperiti da soggetti pubblici e privati nuova biblioteca federiciana il comune ancora caccia degli 8 milioni di euro che servono per la realizzazione dell'opera costo totale 10 milioni e 500 mila euro di cui 2 milioni e 500 mila euro di fondi PNRR intanto Fratelli d'Italia si schiera a difesa dei fondi a favore di Carrara sulle pagine di Valcesano passiamo al festival al sapore di tradizione fisarmonica a Mondolfo e Marotto una montagna di eventi estivi che spicca il ritorno della rassegna come un libro all'aperto tantissimi saranno gli ospiti è un programma di eventi estivi corposo e di qualità quello tra Mondolfo e Marotta che quest'anno per la prima volta conterrà anche un festival della fisarmonica dal 24 al 27 agosto a riscoprire il vecchio legame di questo territorio con uno strumento che per molti decenni fu costruito da aziende d'eccellenza Mondolfesi Urbino ci parla di centro storico per tutta la giornata tornano i mercatini a Batanai sotto i portici di Corso Garibaldi tornano oggi per tutta la giornata i mercatini di Batanai tra le mura sotto i portici di Corso Garibaldi curati dalla Proloco raccolgono bancarelle di artigianato modernariato hobbystica e prodotti creativi per chi oggi volesse farsi una bella gita a Urbino che tra l'altro è una bellissima città c'è anche questa iniziativa molto carina saranno recuperati gli ex magazzini comunali in abbandono da decenni possono diventare uno spazio importante al via anche un nuovo piano per illuminare metà della cinta muraria un centro storico per lo più riqualificato connesso pedonalmente con tutte le frazioni limitrofe questo è il sogno del sindaco Gambini prima della fine del suo mandato vorrei finire il mio incarico spiega lasciando un centro storico migliore i punti su cui interverremo saranno tanti dal teatro Sanzio a quello romano dalla data alla fortezza ma ce ne sono anche tanti altri passiamo a Fossombrone e qui si parla si torna a parlare di quella che è stata l'alluvione che ha causato in tutto il nostro territorio dei danni ingenti e qua danni dall'alluvione si chiedono ristori per tutti appella del sindaco di Monte Grimano Terme a governo e regione nel corso del programma Tg2 Post includere anche gli altri comuni danneggiati dal maltempo di maggio tra i beneficiari dei ristori statali e inserire qualche loro rappresentante tra i partecipanti al tavolo di confronto col governo sono le richieste che il sindaco di Monte Grimano Terme ha avanzato in direzza nazionale al Tg2 Post trasmissione di Rai 2 mercoledì sera dice siamo stati colpiti in maniera molto pesante soprattutto sotto al profilo delle infrastrutture diverse strade sono sparite e l'emergenza non sembra avere fine anche perché il tempo non si mette a posto e quindi siamo sempre a rischio di costanti bombe d'acqua che poi in 10 minuti un quarto d'ora di piogge possono portare degli allagamenti e dei danni veramente ingenti quindi le piogge di questi giorni continuano ad aggravare la situazione martedì abbiamo dovuto chiudere anche un ponte che collega due frazioni ora parzialmente isolate e stiamo lavorando per creare una via alternativa a queste famiglie tale ponte è quello sulla Conca lungo la strada comunale che connette Cassecco a Caramella si parla di un danno da un milione di euro emerso solo una volta rientrata la piena in fiume l'amministrazione sta pensando di sostituire la struttura con una piccola diga che dovrebbe dare garanzia anche alla valle quindi di qui abbiamo visto tutte quelle che sono le notizie del resto del Carli e non approfondiamo magari un pochino di più il Corriere Adriatico allora qui abbiamo una notizia chiusi cinque centri di accoglienza con sette gli indagati la truffa dei migranti fantasma i migranti fantasma sigilli a cinque centri Cas qui parliamo di Ancona sette indagati per una presunta truffa sull'accoglienza a stranieri la procura nei registri presenze fasulle emesse tre misure interdittive risparmiavano sul cibo ma giravano in Porsche Rox e Lusso agli assestiti neanche la biancheria direi che abbiamo visto più o meno tutto quello a Pesaro ecco questa è un'altra notizia che non abbiamo letto importante controordine nel bagno in mare si può fare revocato il divieto e salvato il weekend l'ordinanza riguardava il tratto a sud della foce del Genica e parte dell'arenile di Baia Flaminia tempo 24 ore è già stato revocato il divieto di balneazione a Baia Flaminia nel tratto sud della foce del Genica ricordiamo che la frequenza dei controlli dei valori delle nostre acque è superiore a quelle imposte dalla legge per garantire la massima qualità e sicurezza territoriale weekend salvo e bagni in sicurezza dunque weekend non per oggi che purtroppo il bagno non lo potremo fare ma se domani come sembra è una bella giornata potremo tornare a fare il bagno io direi che abbiamo scandagliato piuttosto bene tutte le notizie se vogliamo vedere quest'ultima andiamo a Urbino Gaifa e primicilio in scena la disputa tra i due castelli il direttore Pugliani alla regia degli eventi del weekend dedicati al Duca Federico ed ancora come una buona notizia per chi ha bisogno insomma i soccorsi sono sempre necessari ci si può sempre trovare ad aver bisogno di aiutare qualcuno come utilizzare il defibrillatore una lezione all'università l'Ateneo è dotato di 9 apparecchi per usarli in aula ieri c'erano 146 persone abbiamo visto tutta oggi abbiamo veramente visto tutta la rassegna stampa tutte le notizie a questo punto io vi auguro una buonissima giornata di passare un bellissimo weekend naturalmente vi invito sempre a rimanere su Fano TV e noi naturalmente ci vediamo lunedì sempre alle 7 con occhio ai giornali grazie e buona giornata grazie a tutti